Benvenuti su KamaTube Signore e signori KAMA! Il pistellone! Che c'è? Faceva ridere? Ho capito che fa ridere, ma per forza a me devi insultare La rifacciamo? No, no, dai Presentiamo insieme? Ok Benvenuti su KamaTube A casa non abbiamo il digitale terrestre Da alcuni anni non guardiamo più tv C'è internet, Netflix, Disney e altre piattaforme Ma a volte qualcosa non funziona O si blocca la piattaforma, non va il collegamento ad internet E quindi i più piccoli restano senza alcun film Anche se giocano tantissimo Per ovviare il problema anni fa utilizzavo un hard disk collegato a un lettore multimediale Ma Alessandro che oggi ha 7 anni, all'epoca ne erano 2, il più piccolo Tirò l'hard disk che si ruba ovviamente Adesso c'è anche Noemi che ha quasi 5 anni ma è molto curiosa E quindi utilizzare lo stesso sistema potrebbe non funzionare Che cosa facciamo per risolvere il problema Eccolo qui Si tratta di un lettore multimediale Multimediare, sì Multimediare, sì Multimediare, sì Multimediare, sì Eccolo qui Si tratta di un lettore multimediale LG Ha pure il telecomando Ed è molto utile perché qui davanti c'è la possibilità con un ingresso USB Di collegare un hard disk Ovviamente va ripulito, testato E l'idea è quella di inserire l'hard disk all'interno In modo che i piccoli non lo possano distruggere nuovamente Non imitate Kama Le sue minchiate conducono a morte certa Che lo sforzo sia con voi Intanto facciamo un bel teardown Smontiamolo e vediamo com'è Se c'è lo spazio che mettano C'è un bel po' di polvere Bisogna pulirlo tutto Questo non è un problema Qui abbiamo il lettore Blu-ray Qui abbiamo ovviamente il circuito di alimentazione Il circuito di amplificazione audio E qui abbiamo la scheda madre L'idea quindi è di riuscire a inserire il supporto per l'hard disk O qui O forse qua sotto E posso provare quindi ad avvitarlo qui Prima lo testiamo però perché non lo uso da un po' di anni Non si sa mai Per testare il lettore utilizzeremo un DVD straordinario Anzi fantastico Labyrinth Potrei anche dedicare uno speciale a questo film Ma oggi dobbiamo utilizzarlo per un altro sport L'ho dovuto togliere E adesso smontiamo il lettore Tu che mi hai preso il cuor Sarai per me il solo amor No Non ti scorderò Vivrò per te Ti sognerò Sull'altra nota ci sto lavorando Il supporto dell'hard disk Lo possiamo quindi inserire qua Ci va alla perfezione A volte capita che Si rompe l'hard disk Ma non bisogna comprare necessariamente Tutto l'hard disk Possiamo averne anche uno in casa In un vecchio portatile ad esempio E basta sostituire l'hard disk Per poter riutilizzare nuovamente il lettore esterno Utilizzerò un nuovo hard disk Ne utilizziamo uno piccolo per ora Giusto per provare Lo formato con il computer E trasferisco il DVD sul nuovo hard disk E allora qui sta flussando Entriamo sulla chiavetta USB E già su video Ma Colpo grosso Giuro che quella cartella Mamma Non c'era Perfetto L'hard disk funziona Non resta che procedere Con tutto quello che serve Per poter adeguare il lettore Alle mie esigenze Per poter adeguare il tutto Ingellate la pizza Per poter adeguare il tanto Non resta che considerato L'hard disk funziona Per poter adeguare il tutto Quanto male mi fa quando lo taglio Devo creare adesso un doppio cavo usb maschio che mi consenta di collegare il lettore ad un computer per trasferire nuovi film in modo che non debba necessariamente riaprire il lettore tutte le volte e smontare l'hard disk. Mi voglio fermare qui, voglio assemblare il tutto perché devo portare su il lettore ai miei bambini, vedrò con loro questo bellissimo film Labyrinth questa sera e aspetto vostre notizie, i vostri commenti, i vostri suggerimenti come posso trasferire nuovi film dal pc al lettore multimediale sia spento che acceso. Certo qualcuno si starà chiedendo ma esistono già dei lettori multimediali con l'hard disk interno e se ce l'avevo secondo voi perdevo tutto sto tempo, si probabilmente si avrei perso tutto questo tempo perché lo scopo di questo canale è proprio questo, perché lasciare uno strumento così bello fermo a prendere polvere in un garage quando lo posso riutilizzare? Speriamo che duri, teoricamente Ale e Noemi non dovrebbero distruggerlo, speriamo bene. Mi raccomando farvi bravi, ok rimontiamo tutto, testiamo per l'ultima volta. Ehi scrotolo, ma che cazzo è? Ah tu si che vuoi? Per caso si è scritto anche tu a Camatube? Certo che sono iscritto, come ti permetti. Oh scusami, non volevo offenderti. Perché? C'è qualche scionzo che non è iscritto al canale come me. Tanti scionzi. Puttana da miseria. Arriveranno, arriveranno, ce la possiamo fare, ui ui. Vi ringrazio per aver guardato questo video, mi auguro che vi sia piaciuto. Ci sarà sicuramente una seconda puntata dove approfondiremo il dettaglio del trasferimento dei file. E se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, mettete un like se volete e consigliatelo ai vostri amici. E mi raccomando, qualunque sia il problema che vi affliggi, non arrendetevi mai. Continuate a ripetere. Dicate un'altra parte, invece. Cosa дав numa frente berate, ce la posso fare. Uh... Uh... tiroffino a calcara a calcara alaya si